Il testo di San Paolo ai Corinzi La fine del testo, dal versetto 12, pagina 6 in alto, dice San Paolo, ha fatto degli esempi dell'Antico Testamento e dice queste cose sono state scritte perché noi possiamo avere un esempio di quelle che sono le tentazioni per non caderci. E poi dice Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio, infatti, è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Cioè, anche nei confronti della tentazione, del male che ci attira, che si presenta come fascino, il male che ci si presenta come proposta da seguire, Dio si regola secondo le nostre forze, non permette che siamo tentati più di quello che possiamo effettivamente sopportare. Anche questo è un atto paterno, quello di conoscere le forze e misurare le forze. In un certo senso l'idea è, guarda che se il male veramente scatenasse tutta la sua forza contro di te, caput. Ma invece Dio lo tiene, grazie, Dio lo tiene in qualche modo a bada e permette solo ciò che tu riesci effettivamente a sostenere e ciò che è utile per la tua fede. Perché persino la tentazione al male Dio la usa per la nostra fede, e Dio la permette per la nostra fede. Il punto di partenza è ciò che Dio ha già fatto per noi. Cioè, noi non preghiamo liberaci dal male facendo finta che Dio non ci abbia già liberati dal male. Sarebbe assurdo. Oppure non preghiamo, Signore perdona i nostri peccati, come se Dio non avesse già perdonato i nostri peccati in Cristo, come se Dio non ci avesse già salvati. Tutto ciò è già successo, solo che è già successo, ma non è ancora pienamente realizzato in noi e nel mondo. Infatti una formula che si usa nella teologia per dire questa cosa è che il cristianesimo è già e non ancora. Perché noi siamo già uniti dallo Spirito Santo, però non ancora uniti nella piena comunione. E infatti spessissimo ci dividiamo. Noi siamo già risorti con Cristo, nello Spirito per la libertà che ci ha dato dal male, ma non ancora nel nostro corpo. E la storia è già stata redenta da Cristo, ma non è ancora giunta al suo esito. Allora c'è un processo. E la salvezza è un processo sia storico sia dentro di noi. Anche noi veniamo salvati. Veniamo liberati. Adesso approfondiremo questo tema. Veniamo liberati sempre di più. Leggiamo un testo di San Giovanni, a pagina 6. È la prima lettera di Giovanni, capitoli 2 e il capitolo 5 dei brani. Scrivo a voi figlioli perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome, il nome di Cristo. Perché avete avuto fede in Cristo. Scrivo a voi padri perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi figlioli perché avete conosciuto il padre. Ho scritto a voi padri perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi giovani perché siete forti. E la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Avete vinto, già vinto il maligno. Perché? Perché siete in Cristo per la vostra fede e Cristo ha già vinto il maligno. Lo ha vinto, ci raccontano i Vangeli, subito, subito, proprio all'inizio dei Vangeli. La vita in Cristo è una vita che ha già vinto il maligno. E ciò nonostante, San Giovanni continua, non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal padre ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi vedete, dice, sia voi avete già vinto il maligno per la vostra fede, però non amate il mondo e le cose del mondo. Perché qui ancora in realtà c'è una battaglia in corso. È già vinta, ma bisogna combattere. Come funziona sta cosa? E continua, capitolo 5. Dunque, questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna. Già la possedete, voi che credete nel nome del figlio di Dio. E questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da Lui quanto abbiamo chiesto. Questa è una cosa che dice anche Gesù nel Vangelo. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. A coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla morte. C'è infatti un peccato che conduce alla morte. Non dico di pregare riguardo a questo peccato. Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte. Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca. Chi è stato generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. Allora, liberaci dal male. Liberaci dal male. Non intendiamo liberaci dal mal di schiena. Liberaci dall'unghia incarnita. Liberaci dal governo corrotto. Liberaci dal cattivo amministratore. Liberaci dal... No, il male di cui parliamo può significare tre cose, diciamo. Anzitutto questa parola in greco potrebbe essere o neutro o maschile. Cioè potrebbe o essere liberaci dal male, nel senso dal male in generale. Da ogni male. Oppure potrebbe essere liberaci dal maligno. Dal maligno può significare, secondo significato, l'uomo cattivo, cioè da colui che ci fa il male. Oppure terzo significato potrebbe essere liberaci dal maligno, con la M maiuscola, cioè liberaci dal demonio. No, da colui che per eccellenza fa il male. Sono vere tutte e tre queste cose, ma hanno interessa la radice del problema. Il male con la M maiuscola. Il maligno. Quando diciamo il Padre Nostro nella Messa, riprendiamo quest'ultima domanda, subito dopo. Il prete, noi finiamo il Padre Nostro pregando tutti insieme, diciamo non ci dure il tentazione, ma liberaci dal male. E il prete comincia. Liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E così possiamo, liberati da ogni peccato, vivere nell'attesa che si manifesti la Beata Speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E tutti quanti rispondiamo, tuo è il regno, tuo è il potere e la gloria nei secoli. No? Mi pare, sono bravo. Allora, cioè, noi riprendiamo questa frase sulla liberazione del male e la ripetiamo, la carichiamo per dire sì, sì, sì e concludiamo dicendo tuo è il potere, tuo è la gloria nei secoli. Cioè stiamo dicendo perché tu hai già vinto il male, perché tuo è il potere e tuo è il regno, tu hai già vinto il male. Allora, liberaci da ogni male, da ogni peccato, perché possiamo vivere aspettando la Beata Speranza. Cioè aspettando che si compia l'opera che tu hai già fatto, si compia anche in noi, si compia definitivamente. Quindi è una frase che nella Messa sottolineiamo molto, questa di liberaci dal male. Chiediamo di essere liberati dal male, vi dicevo che è la seconda parte della domanda precedente. Non permettere che entriamo nella tentazione, che la tentazione che il male ci attragga e ci risucchi e noi senza accorgercene ci troviamo prigionieri, ma anzi liberaci dal male. Cioè il movimento opposto, no? Strappaci fuori dal male, perché il male è una gabbia. Il male è una gabbia ed è una schiavitù. Ne abbiamo già parlato parlando del venga il tuo regno, di tutte queste immagini biblici del male come qualcosa che ti domina. Ti tiene sotto una cappa, sotto un potere che non è un potere che ti fa vivere, che aumenta la tua vita, ma è un potere che limita la tua vita, che ti tiene appunto prigioniero nel male, nella tristezza, che in un certo senso potremmo dire ti costringe quasi a fare il male. Allora, liberaci dal male, facci uscire da questa gabbia, facci uscire dal potere del maligno. Tutto il mondo, diceva San Giovanni, giace sotto il potere del maligno. Che potere è quello del maligno? Non è un potere come quello di Dio, che è il Signore. È il potere proprio della seduzione, il potere del male. In realtà il maligno non ha un potere su di te se tu non glielo dai. Cioè, non è come Dio, che è colui che ti dà la vita, che fa esistere tutto il mondo. Il maligno, nella teologia cristiana, è una creatura di Dio. Nella teologia cristiana è un angelo decaduto, quindi una creatura di Dio. Allora, il potere che il maligno ha è un potere di seduzione, di attrazione, è il potere della parola. Per questo prima parlavamo dei pensieri e dei desideri. Se vi ricordate la prima immagine del maligno che appare nella Bibbia, cioè quella del serpente di Genesi 3, è un'immagine, chiaramente, ma è un serpente che parla e che tenta mediante la parola. E non è che costringe Eva e Adamo a qualcosa, li convince. Ma sono loro poi che compiono il male, no? Allora, il essere liberati dal male si tratta di, appunto, di essere strappati a qualcosa che è vero che è esterno a noi, ma che è nella nostra volontà. Cioè, il problema è il male dentro di noi. E' quello il problema. E' la falsità che ci portiamo dentro, la menzogna che ci portiamo dentro, e' quelli che noi chiamiamo, nello schema, nella descrizione cristiana del male, i vizi capitali. Cioè, quelle storture interiori, quelle malattie dell'animo umano, che sono le forme che il male prende dentro di noi. L'orgoglio, l'avarizia, no? L'invidia, sono tutte le forme che il male prende dentro di noi e che ci dominano. Se tu hai un vizio, un vizio è una cosa che tu fai sempre, che tu ripeti, che fai quasi automaticamente. E' come se fosse in te un automatismo, ma un automatismo sbagliato. Un'abitudine cattiva, ma un'abitudine in senso forte, cioè una di quelle cose che non puoi non fare. Se tu sei invidioso, non è che al vicino c'ha una promozione, il tuo collega in ufficio c'ha una promozione e tu dentro di te dici ma che faccio? Lo invidio oppure sono contento per lui? Non ti si pone questa domanda. Sei morto dall'invidia, proprio sei rosso dall'invidia dentro. Non è una scelta per te, è un automatismo, non puoi farne a meno, a meno che, a meno che, primo, non te ne renda conto, secondo, tu non decida che non vuoi essere così e terzo, tu non chiedi aiuto a Dio per esserne liberato. Ma se no, vai là. In questo senso, il male appunto ci domina. Ma in Cristo abbiamo già vinto. E quindi si tratta di vivere in Cristo. da questo punto di vista c'è una pagina molto dura del Vangelo di Giovanni che non vi ho messo nel testo perché è veramente tremenda. Però, ah, dice Gesù, quindi ve la dico. Allora, il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, Gesù dice sapete perché non credete a ciò che vi sto dicendo? non credete a ciò che vi sto dicendo perché voi non avete, non conoscete il padre mio. Anzi, voi avete un altro padre. Eh, noi abbiamo Abramo per padre. Se aveste Abramo per padre, credereste a quello che vi sto dicendo perché Abramo mi conosceva. Ma voi fate le opere del padre vostro. Ah, noi non abbiamo del padre vostro. Voi siete figli del maligno. mi dice Gesù, quindi ve la dico perché la dice lui. Il vostro padre è il demonio. Pesante come cosa, no? Che cosa intende Cristo? Il vostro padre è il demonio. Cioè, nella vostra vita, nel vostro modo di vivere, nel vostro modo di pensare, si vede a chi assomigliate e non assomigliate a Dio. Assomigliate al maligno. Pensate, il padre nostro, prima parola, padre, ultima, male, appunto con la M maiuscola, maligno. Cioè, questi due poli non sono casuali. È vero che noi possiamo vivere la vita non da figli di Dio. Ma se vivi non da figlio di Dio, non è che vivi non da figlio di Dio, ma da figlio dei guardi, no, se vivi non da figlio di Dio, resti sotto il potere del maligno. Perché non vuol dire che sei indemoniato, che è un'altra cosa, no? Ma vuol dire che c'è un altro principio che domina nei tuoi atti e che assomiglia a un altro padre. È molto dura come cosa, ma è Evangelo, è Giovanni 8, punto. Allora, non c'è una via di mezzo, per cui non è che nel nostro, nella nostra, nella nostra visione non c'è un, non c'è una terza via di nuovo. Il che non vuol dire, ovviamente, non prendetela, in questo senso, vuol dire che se non sei cristiano allora sei adoratore di Satana. Non sto dicendo questo. Esistono purtroppo gli adoratori di Satana, ma non è che questo è ateo, dunque, no, non sto dicendo questo. Ma veramente si può vivere con un'altra paternità, cioè con altri criteri, altri obiettivi, un altro modo di vedere la realtà che non è quella di Dio ma è l'esatto contrario. E questa cosa può capitare a tutti, a tutti. Non so se vi ricordate quando Gesù fa il primo annuncio della passione, Pietro gli dice questo non ti accadrà mai perché tu sei Messia, abbiamo appena detto che sei Messia e non ti può succedere questa cosa. E lui gli dice lungi da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché tu non pensi secondo Dio ma pensi secondo gli uomini. Quindi, il primo che si è preso del Satana è Pietro. Quindi, se ce lo prendiamo pure noi, non è un'offesa ad personam che ci fa Gesù, ma perché è vero che possiamo avere una logica, un modo di pensare completamente contrario a quello di Dio. Magari senza accorgercene, proprio perché il male si camuffa e quindi non ti dirà mai che è il maligno, ma possiamo veramente stare sotto il potere del maligno. Allora, vi dicevo però che il male non domina su di noi se non con il consenso della nostra volontà, della nostra libertà. Solo che, poiché non si presenta mai come male, noi spesso acconsentiamo, perché non abbiamo capito, non siamo svegli e non sappiamo che stiamo acconsentendo al male. Ma pensiamo che stiamo facendo magari una cosa appunto, una cosa carina, una cosa ragionevole. In realtà poi abbiamo dentro di noi invece qualcosa che, come una voce, un'intuizione che qui non va questa scelta che sto facendo, però dall'altra parte stanno insieme le cose, non si entra nel male se non per propria volontà, infatti il male ti tenta, infatti il male ti seduce. Come nel dialogo fra il serpente, Adamo ed Eva, non è che Eva subito arriva e dice oh Dio ci ha dato un comando subito voglio trasgredirlo, non è così, no? Il serpente le dice è vero che non dovete mangiare nessun albero, Eva, no ma non è vero, ma è così, si mettono a parlare, 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 e alla fine lo fa, ma ci è arrivata con un processo di convinzione. Bene, allora, come si combatte il male? Perché di una battaglia stiamo parlando. I cristiani potremmo dire sono della gente che è in mezzo a una guerra, come dei guerrieri, dei lottatori. Quando un bambino viene battezzato, subito prima di battezzarlo gli si mette qui dell'olio sul petto, l'olio dei catecumeni, e gli si dice questo olio è il segno della battaglia che lui dovrà fare per tutta la vita contro il male. Questo si fa in tutti i battesimi su un bambino piccolo, quindi è una cosa che tutti abbiamo ricevuto quando siamo stati battezzati. Ci hanno messo l'olio qua e ci hanno detto perché tu durante tutta la tua vita dovrai combattere contro il male. E dici, mazza che visione tragica, ma è così. stare al mondo vuol dire combattere contro il male perché esiste il bene ma esiste anche il male. Il male si combatte in due modi. Primo, già ve l'ho detto ma ve lo ripeto, si combatte mai da soli, mai da soli, cioè sempre con Dio e cioè con la Chiesa. La battaglia contro il male che fa parte della vita cristiana è una battaglia comunitaria contro il male, non solitaria. Non sei zorro che va a e vittura a combattere i cattivi, ma è una battaglia comunitaria perché? Perché è una battaglia anzitutto dentro di noi. Il nemico non è fuori di te per cui tu vai e lo... Il nemico è dentro di te. Dice Gesù in Marco 7 È dal cuore dell'uomo che nascono i propositi cattivi, la malvagità, l'invidia, la gelosia, la violenza, tutto dal cuore dell'uomo viene. Quindi il luogo della battaglia è il tuo cuore. E certo poi anche il mondo perché esiste il male oggettivamente nel mondo, esiste le ingiustizie, sono le cose sbagliate e uno deve combatterle, ma combattere solo il male fuori di te è un'illusione. Il problema è il cuore e se non guarisce il tuo cuore non puoi nemmeno combattere il male fuori di te. Potremmo dire che in fondo l'umanità si divide fra chi questa battaglia ha scelto di farla e chi invece no. Cioè fra chi ha capito che nella vita deve lottare per il bene contro il male e chi invece ha scelto la strategia alternativa. Qual è la strategia alternativa? O sei pessimo, cioè o fai il trafficante di armi, vendi gli organi dei bambini, fai stupri e rubi, ok? Oppure fai finta di non vedere. Se non ti vuoi rendere conto non te ne renderai conto. Allora a volte quando uno non sceglie di affrontare apertamente il male dentro di sé e fuori di sé la strategia che sceglie è quella di far finta di non vedere. Perché? Perché non vuoi problemi. Effettivamente noi abbiamo una sorta di difesa per preservare la nostra vita un po' tranquilla, no? Abbiamo una sorta di difesa dalle cose che non vanno. Non lo vediamo il male. Invece noi chiediamo liberaci dal male, cioè stiamo chiedendo, stiamo dicendo al Signore vogliamo stare dalla parte, vogliamo assumere questa battaglia sapendo che anzitutto dobbiamo combattere ciò che di negativo c'è in noi stessi e poi anche combattere ciò che oggettivamente vediamo sbagliato. Cioè ci sono chiaramente delle palesi ingiustizie, no? Solo che a volte siamo addirittura abituati alle ingiustizie per cui ci sembra che non ci sia tutto sommato niente da fare. Allora, come si combatte questa battaglia? Primo, mai da soli ma sempre con la comunità della Chiesa. Secondo, con delle armi particolari che sono le armi spirituali. San Paolo ne parla tante volte ma prendiamo il brano più famoso che è quello che trovate nell'ultima pagina del foglietto e che è un brano della lettera agli Efesini capitolo sesto. Dice San Paolo Per il resto rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue ma contro i principati e le potenze contro i dominatori di questo mondo tenebroso contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque attorno ai fianchi la verità indosso la corazza della giustizia i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace afferrate sempre lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio. Vedete la battaglia spirituale contro il nemico che è il maligno è una battaglia che usa armi particolari perché se il campo di battaglia è il tuo cuore e il nemico è lo spirito del male le armi saranno delle armi spirituali sia da parte sua che da parte tua da parte sua le armi spirituali sono l'insidia abbiamo detto la menzogna il compromesso lo sfruttare le tue passioni allettarti con i tuoi idoli tu sei fissato siccome c'hai avuto eri leggevo un'intervista l'altro giorno a una ha vissuto un'infanzia povera e quindi poi ha desiderato tremendamente tutta la sua vita essere ricca e diceva in questa intervista questa era una famosa che aveva fatto carriera nel mondo della moda cioè che a lei quello che gli interessava era avere soldi ed essere bella e lo è stata bellissima bellissima per carità allora a cosa è stata tentata è stata tentata dall'idolo l'idolo di se stessa della bellezza dello sguardo degli altri dei soldi e quindi della sicurezza i soldi nel senso della non c'ho problemi sto sicuro qualsiasi cosa succeda ce li ho i soldi quindi l'idolo della sicurezza come è stata tentata è stata tentata a partire dalla sua esperienza di invece di sofferenza di privazione di povertà nella 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 giovinezza quindi c'è stata una prova vera e poi il maligno ti si presenta con una suggestione ma la tua vita sarebbe veramente bella se invece invece di essere una poraccia tutti ti guardassero e ti ammirassero allora sì un altro idolo che ci può tentare è quello del non so della della carriera l'idolo ma anche l'idolo semplicemente della famiglia io ho una bella famiglia ah adesso quando tutti mi guardano no io ho una bella famiglia io sono sposato ho c'è tutto a posto ho i figli tutti i miei figli sono bravi vanno 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 bene a scuola poi vanno all'università avete presente quelli che che si vantano delle cose no della allora lì vedi che è la famiglia che è un idolo cioè che lui vive per per quello è quello che gli dà la vita e infatti è quello ciò di cui lui parla di che ti parla no di quello di quanto è stato bravo suo figlio a scuola invece tuo figlio che è una capretta no e tu stai là torni a casa e dici a tuo figlio ma senti ma guarda ma quello ma perché i figli degli altri vanno sempre sempre meglio ma non lo sai che è un inganno per esempio mio padre aveva un cugino lui stava a Roma aveva un cugino a Livorno allora le mamme erano d'accordo ognuna diceva al figlio che il cugino era bravissimo andava benissimo a scuola invece tu sei una schiappa ma guarda tuo cugino che fa benissimo l'hanno scoperto anni dopo capito che c'era questo inganno no ma per dire gli idoli possono essere anche idoli che noi ci facciamo di cose buone perché tutto il mondo di per sé è pieno di cose buone e belle l'idolatria è mettere una cosa buona in un posto che non è il suo metterla al posto di Dio cioè di ciò da cui mi aspetto la vita da cosa mi aspetto la vita la felicità le cose me le aspetto dalla mia famiglia mi spiace la tua famiglia non è Dio non ti potrà dare la felicità la vita le cose la tua famiglia è una cosa bellissima è il luogo che ti è dato per amare e dove anche sarai amato ma non è quella la divinità anche perché se no qualsiasi cosa rovina la tua famiglia e ti rompe il tuo incanto il tuo quadretto tu lo odierai se tuo figlio comincia a fare il pazzo tu lo detesterai ma lo detesterai perché sta rovinando la tua pace e il tuo idillio familiare che invece tu ce l'hai fisso in testa che la famiglia deve essere così e invece no la famiglia è un casino e se tu non accetti che sia un casino non potrai amare tuo figlio perché dovrai difendere l'idea che tu hai della famiglia cioè l'idolo è subdolo usa anche cose usa le cose buone e in realtà poi ci troviamo a ragionare non secondo Dio ma secondo un'altra logica che non è quella di Dio allora come ci tenta il maligno dicevamo le armi del maligno sono la seduzione l'attrazione usa le nostre passioni proporci degli idoli come si combatte con le armi che dice San Paolo l'armatura di Dio come è fatta attorno ai fianchi la verità non la menzogna con se stessi la verità primo su di te che cosa vuoi che cosa stai facendo veramente non prendersi in giro da soli e poi non mentire con gli altri non essere falsi amare la verità perché la verità viene da Dio ma la verità è insieme alla carità perché se no la verità può diventare un'arma violenta con un corpo contundente quindi è insieme alla carità perché la vera verità scusate il gioco di parole è la verità dell'amore ci può essere anche una falsa verità e cioè una verità parziale per esempio pensi sempre a te stesso sei vanitoso appena uno distoglie il discorso da te tu subito torni su te stesso ti interessi solo di te medesimo e gli altri ti interessano in quanto in qualche modo contribuiscono a te al tuo personaggio allora io ti posso fare una radiografia della tua della tua psiche di tutti i difetti che c'hai questa è una parte della verità c'è tutto il resto che anche fa parte della verità e che è primo che sei figlio di Dio che Dio ti ama che Dio ti permette una vita molto più bella e migliore di questa vita concentrata tutta su di te che si può vivere diversamente che già in te c'è il bene veramente c'è il bene molto nascosto da queste cose ma c'è veramente il bene e che puoi puntare su quello e non sull'altro allora io ti posso dire anche la verità in modo molto parziale e in questo caso non è una verità vera non è una verità piena e non è la verità con la carità per questo bisogna stare attenti anche nell'usare proprio il concetto di verità e nelle relazioni soprattutto ma è importantissima la corazza della giustizia il Vangelo della pace lo scudo della fede l'elmo della salvezza la parola di Dio queste sono tutte le armi spirituali di cui parla San Paolo questo combattimento se ci pensate è proprio il combattimento della fede cioè com'è che si combatte il maligno se il maligno non lo devo combattere da solo ma lo combatto insieme con tutta la chiesa e lo combatto insieme con Dio allora anche qui come si combatterà il maligno si combatterà rimanendo uniti a Dio cioè facendo la vita cristiana quegli strumenti che la chiesa mette a nostra disposizione per vivere la vita cristiana qual è il problema che in realtà in questa battaglia contro il male che è la battaglia di Dio è la battaglia del regno di Dio contro il male a volte noi ci troviamo dalla parte sbagliata cioè invece di essere dalla parte di Dio che lotta contro il male ci troviamo dall'altra parte dalla parte del male siamo alleati col male invece che col bene e questo ci capita anzitutto dentro di noi dentro di noi cioè Dio potrebbe liberarci dal male molto di più di quanto non lo faccia effettivamente perché noi siamo molto molto affezionati al nostro male sembra strano ma come può essere affezionato al male sì sì affezionatissimi al nostro male e chiaramente non ci sembra così male anzi abbiamo bisogno che Dio stesso ci riveli che quello è male e una volta che Dio ce lo rivela con la sua parola con i sacramenti allora cominciamo a sentirci a disagio e a chiedere magari a lui di essere liberati ma se no siamo molto affezionati potrebbe anche scocciarci addirittura che Dio rovisti per liberarci dal male vi leggo un brano del Vangelo Marco 5 perché è un brano in cui si parla di questo tema giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni il mare qui il lago di Galilea Gesù stava per lo più da un lato dove c'è una città che si chiama Cafarno passano dall'altro lato dove non è più una riva ebrea ma è una riva pagana del lago sceso dalla barca subito dai sepolcri quindi c'è una zona di cimiteri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro cioè da un demonio costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene perché più volte era stato legato con ceppi e catene ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo ok quindi un uomo indemoniato dotato di una forza di una forza sovrumana continuamente notte e giorno fra le tombe e sui monti gridava e si percuoteva con pietre quindi era autolesionista visto Gesù da lontano accorse gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse che vuoi da me Gesù figlio del Dio Altissimo ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi gli diceva infatti esci spirito impuro da quest'uomo cioè questo è quello che si chiama nel linguaggio della chiesa normalmente un esorcismo allora esorcismo abbiamo tutti in mente la serie infinita di film che hanno fatto sugli esorcismi a partire da celeberrimo film fine anni 70 che si chiama l'esorcista che fu quello che lanciò praticamente il tema nel cinema venne di gran moda ed allora ogni anno più o meno fanno un film sugli esorcisti più splatter insomma questa cosa l'esorcismo che cos'è una cosa che la chiesa ha sempre fatto è una preghiera ok quando una persona sta male dice io c'ho un demonio che mi tormenta nove volte su dieci c'ha un problema psicologico ok novantanove volte su dieci c'ha un problema su cento c'ha un problema che si risolve appunto con un bravo psicologo a volte uno psichiatra ci sono però invece dei casi veri di particolare diciamo di particolare possessione di particolare azione del maligno su delle persone rarissimi vi dico però ci sono e per questi casi è sempre stato vivo nella chiesa questa preghiera dell'esorcismo cioè sono delle persone dei preti che il vescovo incarica tu fai l'esorcista e questo prete quindi come lavoro invece di fare il parroco invece di fare questa cosa fa l'esorcista cioè gli portano a lui tutti questi casi e lui fa queste preghiere che sono lunghe che si ripetono nelle settimane nei mesi gli esorcismi durano molti mesi di solito in cui piano piano si diciamo si cura l'animo di questa persona come funzionano questi esorcismi come questo brano del Vangelo Gesù gli dice esci spirito impuro da quest'uomo e poi gli domanda qual è il tuo nome e il demonio rispose il mio nome è Legione gli rispose perché siamo in molti e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese c'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono mandaci da quei porci perché entriamo in essi glielo permise e gli spiriti impuri dopo essere usciti entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare erano circa duemila e affogarono nel mare i loro mandriani allora fuggirono portarono la notizia nella città nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto giunsero da Gesù videro l'indemoniato seduto vestito e sano di mente lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio mentre risaliva nella barca colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui non glielo permise ma gli disse va nella tua casa dai tuoi annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati sembra un po' strano no? dici beh c'era questo che era un mostro sembrava un fil dell'orrore arrivi lo trovi invece guarito dovresti essere contento e invece no ebbero paura poi quando gli dicono dei maiali che hanno perso una catastrofe economica dicono guarda grazie e basta ciao ciao sì grazie no bellissimo hai fatto un miracolo stupendo no effettivamente ti è riuscito molto bene però basta noi non ne abbiamo altri indemoniati non c'è più niente da fare cioè cercano di di mandarlo via cioè sembra in qualche modo che fosse meglio la situazione precedente in cui c'era questo che viveva però questo stava fuori dal paese questo viveva nei sepolcri che si percoteva gridava no era un caso ormai disperato sembra che fosse meglio questo piuttosto che vederlo vestito e sano di mente lui che era stato posseduto dalla legione cioè loro lo sapevano qual era il problema ma è come se preferivano la situazione precedente cioè preferivano la situazione in cui questo qui era prigioniero del male può essere questa cosa può essere che che noi o che in generale l'uomo preferisca il male al bene sì di fatto il Vangelo è pieno di questo tema cioè quando noi diciamo liberaci dal male non è detto che poi veramente vogliamo essere liberati dal male perché al male ci si adatta e nel male in un certo senso si sta male ma si sta pure comodi cioè non sempre noi vogliamo essere liberati da ciò che ci rovina la vita perché a volte ci siamo adattati a ciò che ci rovina la vita ed è meglio un male conosciuto e quindi in qualche modo addomesticato piuttosto che l'ignoto piuttosto che una una libertà difficile da gestire può essere perché dato che il male è entrato in noi mediante la menzogna può essere che noi ancora non lo abbiamo smascherato dato che il male è entrato in noi con la gradualità può essere che noi non lo riconosciamo proprio come un male e dato che il male ci spinge sempre al compromesso noi comunque ci difendiamo può essere che diciamo vabbè ma in fondo non è così tragica perché perché noi abbiamo un rapporto col male che non è così netto per questo preghiamo liberaci dal male perché il nostro rapporto col male spesso è noi siamo un po' affezionati al male un po' affezionati al nostro al nostro male cioè è molto difficile che uno arrivi proprio al desiderio autentico di essere liberato da questa cosa un tempo fa una ragazza stava con un uomo sposato ok una ragazza cristiana stava con questo si era infilata in questa situazione sempre per la dinamica della tentazione no quella che ci entri piano piano e poi a un certo punto te infogni quindi stava con un uomo sposato sposato con famiglia eccetera quindi un casino ok e lei diceva non ci vorrei non riesco non riesco cioè ogni volta mi dico basta 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 non faccio più non sento più due giorni e poi lo risente no e così via andava sono andati avanti per un sacco di tempo non riusciva a liberarsi da questa cosa pregava pure diceva signore aiutami signore aiutami signore liberami ma veramente non voleva essere liberata da questa cosa gli ci è voluto poi la storia c'ha il lieto fine nel senso che gli ci è voluto ha dovuto in un certo senso toccare il fondo proprio arrivare al fatto di dire questa cosa mi sta facendo malissimo mi sta distruggendo e a un certo punto fare dire addio davvero dal profondo del cuore liberami ed effettivamente poi è stata liberata cioè ha trovato la forza per chiudere veramente ma non era scontato cioè per un sacco di tempo ci ha avuto in testa l'idea no non devo fare questa cosa no questa storia è sbagliata ma non riusciva veramente a volere profondamente di essere liberata e guardate che un sacco di volte è così cioè è come se Dio avesse sempre pronta la mano per strapparci dalle nostre gabbiette ma noi non sempre abbiamo il desiderio di uscire dalla gabbietta a volte lo diciamo anche così lo diciamo perché lo intuiamo ma non abbiamo ancora la volontà di essere liberati dal male preferiamo appunto restare nel male per questo il Padre Nostro si conclude facendoci pregare liberaci dal male proprio perché non è scontato che noi vogliamo essere liberati dal male allora è una preghiera che dobbiamo fare per maturare il desiderio perché perché ci venga davvero un desiderio di essere liberati poi Dio è sempre pronto a liberarci ma appunto non sempre noi vogliamo essere davvero liberati qual è il punto fondamentale che stiamo dicendo di non essere autosufficienti stiamo dicendo che dal male abbiamo bisogno di essere liberati cioè che cosa stai dicendo stai dicendo io da solo non ce la faccio e invece l'illusione di farcela da soli contro il male è un'illusione che spessissimo abbiamo cioè noi spesso pensiamo c'ho questa cosa sì faccio questa cosa che è sbagliata ormai l'ho capito che è sbagliata però se io mi impegnassi un po' di più se io è che non ma se una volta mi ci metto allora cambio e invece no non cambi questa è un'illusione cioè il male è più forte di noi appunto è una dimensione di schiavitù esempio ottimo per capire la dinamica e vale pure per le altre cose tutte le dipendenze hanno un un diciamo un inganno profondo per cui la persona pensa di poterne uscire da sola non è vero la cosa è evidente agli occhi degli altri ma lui è convinto che ce la può fare è convinto che che se ci si mette che se succede questa cosa che se imbrocca la volta giusta ne può uscire invece è falso e tu che stai fuori lo vedi che è falso ma lui non lo vede è ingannato infatti ti dicono no quelli che fanno il recupero così ti dicono guarda che ne so se chiamate nuovi orizzonti per dirgli oh c'ho sto ragazzino drogato per favore lo aiutate facciamo qualcosa che ti dicono loro ti dicono no ci deve chiamare lui perché deve chiamare lui perché deve almeno fare questa piccola cosa questo piccolo atto in cui è lui che chiede di essere aiutato se lui non chiede di essere aiutato tu lo puoi mettere nella struttura più figa del mondo con i migliori psicologi i migliori specialisti così non ne uscirà perché non hai il desiderio di uscirne no è ingannato pensa ancora di poterlo fare da solo non pensa di avere bisogno che dall'esterno qualcuno lo liberi lo aiuti e questo vale per tutte le dipendenze appunto mi spiegavano c'è questo scatto iniziale se lui non dice aiutatemi e qual è il problema che spesso arriva a dire aiutatemi solo quando è arrivato come questa questa ragazza di cui vi parlavo è che ormai era proprio disperata allora ha veramente voluto uscire dalla cosa allora ha chiesto a Dio ha gridato in un certo senso a Dio dicendo aiutami libera e Dio l'ha liberata ma la stessa cosa vale per tutti tutti i mali che ci dominano c'è sempre bisogno di essere aiutati dall'esterno la salvezza viene da fuori ma questo vale anche per anche per per cose più piccole più magari della nostra esperienza proprio immediata personale a volte funziona così cioè a volte uno dice uno dice no io ma io per questa cosa sto pregando sto chiedendo aiuto a Dio ma effettivamente non hai fatto quel passaggio cioè non l'hai detto a un altro cioè te la stai in qualche modo risolvendo fra te e Dio ma è una scusa alla fine per non affrontarla veramente no cioè dici ma io prego io prego il Signore non mi libera non è vero dilla a un'altra persona chiedi aiuto a un'altra persona allora stai veramente chiedendo aiuto anche a Dio invece se te la giochi così che cerchi di risolvertela nella preghiera non funziona pensate al sacramento della confessione che è il sacramento per eccellenza di liberazione e di guarigione interiore perché è il sacramento che ripete il battesimo ripete il battesimo cioè ripete la dinamica del battesimo nell'atto del confessare i peccati e del perdonare i peccati da parte del sacerdote quando ti vai a confessare sei tu che devi denunciare il male sei tu che devi dire questa cosa che ho fatto è male e io voglio esserne liberato questa questa parola che ho detto a quel mio fratello a quel mio amico a quella cosa è sbagliata ho sbagliato ho fatto una cavolata non la dovevo fare non la dovevo dire questo atteggiamento che ho avuto con quello è stato deleterio è tutta colpa mia è puro male allora dire queste cose non è per niente semplice perché per noi non è per niente semplice dire ho sbagliato è colpa mia abbiamo invece una naturale tendenza a difenderci e a dire a giustificarci a dire sì vabbè ma lui eh sì però però quello mi aveva fatto no allora che ne so uno si va a confessare e comincia dalle circostanze allora l'altro giorno sono tornato a casa no e ho trovato la casa così mio figlio che lanciava le cose sul muro mio marito stava accato sul divano eh dopo un quarto d'ora arrivi al punto che è no e quindi io tipo mi sono trasformata in un erinni ho fatto una scena madre per cui dopo c'era mio marito sull'attenti mio figlio che si lavava i denti così allora che senso ha tutta la circostanza è giustificatoria no è giustificatoria oppure appunto tu dici no è che mi hanno offerto questo lavoro cioè così bello proprio mi hanno offerto un lavoro super poi però è un mese che non vado a messa la domenica perché questo lavoro c'ha pure la domenica cioè cos'è il male nudo e crudo che tu stai confessando che è proprio colpa tua perché se tu non mi dici qualcosa che è proprio colpa tua io chi assolvo quello che ti ha fatto offerta di lavoro io posso assolvere te se tu mi dici che questa cosa è male ma se tu non me lo dici no cioè se tu non lo riconosci come male e non lo metti davanti a Dio chiedendo di esserne liberato come si fa non si può però per noi è molto difficile questa cosa è molto difficile riconoscere il male è molto difficile dire il male così dirlo ho fatto questa qua ed è colpa mia difficilissimo vi ricordate sempre per tornare al famoso testo di Genesi 3 quando arriva Dio e gli dice Adamo dove sei? mi sono nascosto che hai fatto? hai forse mangiato dell'albero della vita? Dio è lei è lei che me l'ha dato Eva che hai fatto? Dio è lui c'è il serpente è il serpente no? cioè è sempre colpa di qualcos'altro è colpa delle circostanze è colpa della storia perché mia mamma è stata così e quindi io adesso e perché i miei genitori sono stati troppo troppo apprensivi e io quindi adesso ho 25 anni ma ne dimostro 5 perché capito? ma è colpa dei miei genitori è colpa della società italiana è colpa è sempre colpa di qualcun altro no? cioè è colpa delle stelle è colpa perché ho sbagliato e perché non ho saputo fare di meglio nella mia meschinità dire questo ci pesa cioè batterci il petto tutti insieme all'inizio della messa mia colpa mia colpa mia grandissima colpa quello si può pure fare tanto è generico no? vabbè poi lo stavamo tutti insieme insomma la mia colpa non è che è proprio serio ecco invece dire proprio dire veramente il male è anche quello è una grazia di Dio è proprio è la verità che prende possesso del nostro cuore e ci spinge a mettere davanti a Dio il male perché così funziona che Dio liberaci dal male stiamo dicendo signore questo è il male che mi tiene prigioniero questo è il maligno con cui io non voglio più avere a che fare questa forma questo pensiero ricorrente che faccio è un pensiero malvagio e io non lo voglio più fare stiamo dicendo questo stiamo dicendo liberaci dal male allora non è scontato che vogliamo farlo e non è scontato che anche noi non facciamo come questi personaggi della della storia dell'indemoniato geraseno che rifiutiamo di dare il nostro male a Dio ultima cosa Cristo chiede al maligno che possiede quest'uomo come ti chiami e lui dice qual è il tuo nome il mio nome è Legione gli rispose perché siamo in molti il mio nome è Legione perché siamo in molti cioè non era un solo spirito puro ma erano tanti spiriti impuri che erano dentro quest'uomo e Cristo nell'esorcismo gli chiede qual è il nome questa cosa c'è ancora nel rito degli esorcismi quando si celebra un esorcismo l'esorcismo maggiore il rito completo dell'esorcismo l'esorcista dice a un certo punto qual è il tuo nome qual è il tuo nome quando si manifesta il maligno e a un certo punto quando il maligno dice il suo nome poi uscirà e verrà liberato verrà liberato l'uomo è interessante questa cosa perché che cosa vuol dire che dentro di noi veramente può esserci una presenza negativa maligna che è una presenza molteplice pensate agli otto vizi capitali secondo la tradizione greca sette secondo la nostra tradizione che sono tanti e sono diversi e convivono tranquillamente con il nostro essere cristiani tu vai a messa la domenica magari fai pure qualcosa fai un servizio fai il catechista così e però dentro di te c'è magari uno spirito di vendetta che te fanno qualcosa no? e tu ti vendichi subito fai capito? fai la vendetta tremenda contro contro gli altri cioè dentro di noi veramente possono esserci tanti tanti spiriti ci sono normalmente tanti spiriti perché la nostra liberazione è qualcosa che è già successo ma che ancora non è compiuto cioè noi abbiamo una libertà rispetto al male questa è la vita nuova una libertà rispetto al male che non è una libertà ancora piena è una libertà che è stata liberata che è stata data e che è come un processo di liberazione la vita cristiana per certi versi da un certo punto di vista è essere progressivamente liberati e purificati dal male uscire sempre di più dal proprio male dai propri pensieri storti dalle proprie abitudini cattive dai propri buchi buchi neri dai propri angoli in cui uno si va a infilare e si intoppa sempre là ecco la vita cristiana è essere piano piano liberati da questo nel tempo e tutto quello che facciamo i sacramenti l'ascolto della parola la vita comunitaria ci serve per questo ci libera dal male e siccome il male ti isola la liberazione sarà sempre andare verso l'altro infatti e concludo il rito dell'esorcismo comincia con l'invocazione di tutti i santi cioè con l'invocazione di tutta la chiesa celeste e con l'aspersione con l'acqua benedetta cioè il battesimo il battesimo che ci ha fatto entrare nella chiesa e ci ha unito a tutta la chiesa e a tutta la chiesa celeste a tutti i santi a tutta la chiesa dei nostri fratelli defunti no? allora quando si fa proprio l'esorcismo che è per proprio per eccellenza il momento di lotta no? contro contro il maligno in cui si vede una dinamica che in piccolo c'è in tutte le in tutte le le tentazioni tutte le prigioni le prigioni che noi abbiamo rispetto al male allora si comincia invocando tutta la chiesa tutti i santi cioè collocandoci all'interno del popolo santo di dio del corpo di cristo bene allora pregheremo poi su questo brano del vangelo di marco 5 anche noi invocando i santi e chiedendo al signore di fare questa opera interiore della nostra purificazione cioè di portare a compimento la nostra liberazione dal male a compimento a compimento a compimento a compimento a compimento di marco 6